Sindaco Luciani, Francavilla illustra il cartellone estivo degli eventi, anche quest'anno grandissimi eventi, lo scorso anno venditti e non solo, grandissima presenza di pubblico, puntate a un bis. Noi puntiamo un'estate che cresce di anno dopo in anno, quindi quest'estate, l'estate 2017, vogliamo che sia migliore di quella 2016, perché la nostra è una crescita continua. Quest'anno a Francavilla avremo nomi eccellenti, importanti, tra Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Marco Masini, avremo il Blue Bar che ospiterà Renzo Arbore, ci sarà Massimo Ranieri. Io faccio fatica ovviamente a ricordarmeli tutti, i due fratelli ben nato, veramente ne sono tanti, gli appuntamenti con i giovani, con due date di Alex Anconitano e l'altro con l'Aperity Street. Insomma, veramente lo spazio per tutti, anche la cultura, con la filosofia al mare, lo sport, nella quale Francavilla è diventata protagonista. Come sapete abbiamo fatto l'internazionale di tennis quest'anno, avremo due tappe del Giro d'Italia Direttanti, avremo il solito appuntamento, il classico appuntamento, quello che è diventato un classico della nostra stagione, con la Francavilla che diventa una palestra a cielo aperto a fine giugno. E quindi, diciamo, una Francavilla che vive, destagionalizza, sta per iniziare la mostra dedicata a Francesco Paolo Michetti, una mostra di caratura nazionale, ma forse anche internazionale, quindi cultura, sport, musica per tutte le età. E poi anche mare, spiagge e sole, il bel condimento di quest'estate. E' certo, si deve godere il nostro mare, quest'anno siamo partiti benissimo con delle analisi tutte negative, nel senso positivo, quindi con un mare pulito, che ci consentirà di riconquistare la bandiera blu nel più breve tempo possibile, quindi una stagione che si annuncia veramente stupenda. Su una sola cosa abbiamo il dubbio, diciamo così, non possiamo influire il tempo, ma noi questo già lo sappiamo, sarà un'estate fantastica anche da questo punto di vista.